Musica Omicidio Mongillo, l'indagato al GIP non voleva uccidere Marco Antonio Zampella durante l'interrogatorio di garanzia e ha ribadito che è stata una disgrazia, con alle spalle una condanna sospesa per furto, è stato arrestato a Caserta nella tarda serata di venerdì. Blitz nel napoletano, 23 arresti per clan rivali nel Vesuviano, affiliati ai clan Ascione Papale e Birra Iacomino, accuse di sequestro di persone ed istorsione. Farmaci veterinari e per uso umano per un valore superiore ai 500 mila euro sono stati sequestrati da Tripalda, dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Avellino. Truffava anziani, spacciandosi per corriere, scoperte altre due truffe e nuovi guai per il pregiudicato napoletano Antonio Perrotta. La raccolta dei rifiuti era a rischio, trovato accordo, revocato in Campania, lo sciopero degli addetti al servizio. Italia sempre più calda, 2015 anno record, a dirlo un report dell'ISPRA. Nuovo appuntamento con l'informazione di Media TV. Resta in carcere il 19enne Antonio Zampella, il giovane ritenuto responsabile della morte del ventenne Marco Mongillo, ucciso, lo ricorderete, venerdì con un colpo di pistola alla testa, mentre si trovava nell'abitazione del rione Santa Rosalia Caserta del fratello di Zampella Umberto. Lo ha deciso il GIP del Tribunale di Santa Maria Capovetera e Nicoletta Campanaro, che ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati ipotizzati dalla procura, ovvero omicidio volontario, detenzione di arma clandestina e recettazione. I dettagli. Non volevo uccidere Marco, ci conoscevamo da quando eravamo bambini. È stata una disgrazia, pensavo che la pistola fosse scarica. L'avevo provata per gioco contro di me e non aveva fatto fuoco, mentre quando l'ho puntata contro Marco ha sparato. Ed io, dopo per lo shock, sono anche svenuto. Così il 19enne Antonio Zampella davanti al GIP del Tribunale di Santa Maria Capoveter, Nicoletta Campanaro, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, svoltosi in carcere. Il giovane, con alle spalle una condanna sospesa per furto, è stato arrestato nella tarda serata di venerdì, perché ritenuto responsabile della morte del ventenne Marco Mongillo. Il ventenne è stato raggiunto al capo da un colpo di pistola esploso dall'indagato, mentre era ospite insieme col fratello Vincenzo nell'appartamento del rione Santa Rosalia di Caserta, in cui vive Umberto Zampella, fratello del presunto assassino. L'arma, ha spiegato il 19enne, sarebbe stata comprata qualche mese fa da un immigrato a Castelvolturno. L'ho pagata a 250 euro, ha riferito. Zampella ha dunque ribalito la stessa versione fornita ai carabinieri al PM, qualche ora dopo il delitto, avvenuto intorno alle 15 di venerdì, accreditando la tesi della ragazzata. Una versione che non collima con quella fornita dal fratello della vittima, Vincenzo Mongillo ha infatti raccontato di non essere presente al momento dello sparo, ma di averlo sentito mentre saliva le scale, in quanto era sceso giù, perché gli erano cadute delle cose. Intanto Maria, la mamma di Marco, chiede giustizia, ed è convinta che le cose siano andate diversamente. Mio figlio non partecipava ad alcun gioco, non credo a quello che è stato dichiarato al verbale. Marco è stato ammazzato volontariamente. Blitz in provincia di Napoli, 23 arresti per clan rivali affiliati ai clan Nascone Papale e Birra Iacomino. Sentiamo. 23 misure cautelari nei confronti di 18 presunti affiliati al clan Nascone Papale e a 5 persone ritenute affiliati al contrapposto clan Birra Iacomino sono state notificate dai carabinieri nel Napoletano. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere di stampo mafioso, sequestro di persone, ricettazione, porto d'armi e distorsione. I provvedimenti sono stati seguiti dai militari ed esposti dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrittuale Antimafia. Delle 23 persone raggiunte dall'ordinanza di custodia cautelare, 9 erano già detenute. Le indagini sono partite nel 2014 e si basano su intercettazioni, anche video, e anche di colloqui in carcere di detenuti, su sequestri di armi e su dichiarazioni di pentiti. Tra cui Antonella Madonna, arrestata il 5 dicembre 2012, moglie del boss detenuto al 41 bis Natale Dantese e a sua volta reggente del clan Ascione Papale. I militari hanno eseguito numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali, ma hanno anche raccolto le dichiarazioni rese da alcuni pentiti. Ora sono i cacciatori di Senerchia, i vigili del fuoco, a condurre le ricerche dell'uomo scomparso da venerdì alle pendici del monte Polveracchio. Antonio Rocco, 67 anni, residente a Battipaglia, è scomparso nel corso di un pomeriggio alla ricerca di funghi nella valle della caccia tra Senerchia e Campania. La zona viene sorvolata dall'elicottero dei pompieri del nucleo regionale di Ponte Cagnano, che oltre ad effettuare gli avvestimenti dall'alto, trasporta personale ed attrezzature dal campo sportivo del comune di Senerchia sulle montagne dove si effettuano le operazioni di ricerca. Farmaci veterinari per uso umano per un valore superiore ai 500 mila euro sono stati sequestrati da Tripalda, provincia di Avellino, dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza. Sentiamo. Maxi sequestro di farmaci di illecita provenienza. La scoperta è delle fiamme gialle. a seguito di una perquisizione effettuata in un deposito ubicato nel comune Irpino di Atripalda nella disponibilità di un veterinario e 57enne. 8.620 confezioni di medicinali ad uso animale, delle quali il professionista non ha saputo fornire alcuna documentazione che potesse consentire di accertare la lecita provenienza. 4.033 confezioni di medicinali per uso umano scaduti e detenuti, sempre senza alcuna documentazione giustificativa. Tutto per un valore di mercato superiore al mezzo milione di euro. Ulteriori indagini svolte nell'immediatezza dei fatti hanno consentito inoltre di accertare che la maggior parte dei medicinali era provento di un furto perpetrato alla fine dello scorso mese di giugno presso una società operante nella provincia di Mantova. Inoltre, nella farmacia veterinaria e nelle vicinanze del deposito, dove le fiamme gialle coadiuvate dal personale del servizio veterinario dell'Astra di Avellino, sono stati trovati registri di trattamenti farmacologici veterinari e ricette mediche veterinari in bianco, marecanti timbro e firma di medici veterinari illecitamente detenuti ed altre 2.845 confezioni di medicinali ad uso veterinario non caricati sugli appositi registri. Il professionista di 57 anni è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, diretta dal procuratore Cantelmo, per violazione degli articoli 646 e 443 del codice penale. Tutti i medicinali rinvenuti sono stati sottoposti al sequestro e sono in corso ulteriori indagini finalizzate ad accertarne la filiera distributiva. Cade dalla bici e muore sul colpo. È accaduto a Santo Stefano del Sole, in via Colacurcio, il ciclista di Castelfrancima, residente a Santo Stefano del Sole, per cause da accertare, cadendo, ha battuto il capo, violentemente perdendo la vita sul colpo. L'uomo di 64 anni è stato soccorso, ma i medici ne hanno solo potuto constatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri di Salsa Irpina. Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata alle 2.37 tra le province di Avellino e Foggia. Secondo i rilievi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto epicentro a 18 chilometri di profondità ed epicentro tra i comuni avellinesi di San Sossio, Zungoli e Valle Saccarda e quelli foggiani di Anzano e Monte Leone. Non si registrano danni a persone o cose. In provincia di Avellino si era registrato un altro lieve sisma di magnitudo 2.1 tre giorni fa, con epicentro a Lioni. Controlli alla Movida. I carabinieri denunciano 5 giovani. I militari del Comando Provinciale di Avellino hanno proceduto inoltre al controllo di 174 auto e all'identificazione di oltre 250 persone svariate, le perquisizioni eseguite e le contravvenzioni elevate. Truffava anziani spacciandosi per raccorriere, scoperti altri due raggiri. Nuovi guai per il pregiudicato napoletano Antonio Perrotta. Siamo a Benevento. Vediamo. Le indagini non si sono fermate il 6 luglio scorso con l'arresto in fragranza di reato di un pregiudicato napoletano. I militari hanno continuato a investigare su una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine ritenuto responsabile di una truffa ai danni di un anziano pensionato di San Vitale. I carabinieri dell'aliquota operativa della Compagnia di Benevento hanno infatti inoltrato alla Procura della Repubblica un'ulteriore segnalazione a suo carico dopo aver raccolto ulteriori elementi probanti che lo ritengono responsabile di altre due truffe perpetrate precedentemente sempre ai danni di anziani residenti in città. La tecnica era sempre la stessa, ovvero quella di qualificarsi come un corriere che doveva consegnare dei componenti elettronici per un computer acquistato da un non meglio identificato parente ed acquisiti dovuti riscontri e riconoscimento da parte delle vittime è bastato poco agli investigatori individuare il responsabile e hanno fatto scattare nei suoi confronti ulteriori due denunce per truffa che erano state denunciate ai militari rispettivamente una a marzo scorso e l'altra pochi giorni fa. Nelle due azioni Antonio Perrotta, 36 anni, era riuscito a farsi consegnare 3.000 euro e 2.500 euro da due ignare pensionate residenti in città cadute nella trappola del falso corriere. L'interessato che è tuttora sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Napoli dovrà ora rispondere delle sue responsabilità per altri due casi. Sarà celebrato nelle prossime ore il funerale di Esther Johnson, la 36enne di origini nigeriane uccisa brutalmente a colpi di pistola a Benevento e ritrovata dopo la segnalazione di un macchinista. I funerali martedì alle 9.30 presso la cappella cimiteriale la società civile sta raccogliendo i fondi per la sepoltura e la Caritas Dioce Sana di Benevento garantirà la copertura della somma eventualmente ancora necessaria. Truffa da 50.000 euro denunciate. 14 persone molisani e campani stipulavano contratti telefonici con documenti falsi. Sentiamo. Contratti stipulati con documenti falsi per attivare utenze telefoniche che consentivano di ottenere anche costosi smartphone. Una truffa da 50.000 euro ai danni della Telecom Italia è stata scoperta dal nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Isernia. 14 le persone denunciate anche per il reato di ricettazione. I carabinieri hanno accertato che i telefonini ottenuti venivano poi illecitamente rivenduti. Le persone denunciate sono della provincia di Isernia e di diversi centri della Campania. Alcuni dei telefoni cellulari oggetto della truffa sono stati quindi recuperati e sequestrati. Un'operazione inserita nell'ambito di controlli a tappeto voluti dal comando provinciale per garantire un'estate sicura ai cittadini in azioni nucleo operativi e radiomobile delle compagnie di Isernia, Venafro e Agnone coadiuvati dal personale del nucleo investigativo. La raccolta dei rifiuti era a rischio ma sembrerebbe essere stato trovato un accordo revocato in Campania allo sciopero degli addetti al servizio. Vediamo. Rifiuti arriva all'accordo sciopero revocato. È stata siglata l'auspicata intesa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei lavoratori delle aziende pubbliche dell'igiene ambientale aderenti a Utilitalia. Nelle danno notizia FPCGL, Fitcis, Will Trasporti e FIADEL aggiungendo che lo sciopero previsto per il 13 e 14 luglio è revocato. Dunque anche in provincia di Salerno, nell'intero agro, sarà possibile conferire i rifiuti e la raccolta avverrà regolarmente. Resta invece confermata al momento l'assenzione dal lavoro nelle stesse date per i lavoratori delle aziende private aderenti a FISE a suo ambiente, anche se in queste ore potrebbe essere raggiunto l'accordo. Il tavolo, sospeso venerdì con la decisione di rinviare l'assenzione, inizialmente prevista per oggi e domani, a mercoledì e giovedì, è ripreso ieri mattina per proseguire ad oltranza fino a chiusura della vertenza. Il contratto, che decorre dal 1 luglio 2016 e scade il 30 giugno del 2019, riguarda circa 50 mila lavoratori addetti al settore, attendeva di essere rinnovato da 30 mesi. Siamo molto soddisfatti del risultato, dichiarano le organizzazioni nazionali, che è stato ottenuto anche grazie alla massiccia adesione dei lavoratori ai due scioperi nazionali del 30 maggio e del 15 giugno scorsi, nonché grazie al contributo offerto dal Lanci. Questa intesa, aggiungono, contribuisce al rilancio del settore, migliorando la qualità dei servizi ai cittadini. L'intesa, come spiegato da AFP, Fit, Wilt e Fiatel, prevede un aumento di 120 euro e una tantum di 200 euro in due parti. Inoltre, nei 120 euro sono inclusi i contributi per il welfare contrattuale a totale carico delle aziende e distribuiti come indennità integrativa. La previdenza completamente generalizzata, l'assistenza sanitaria integrativa, il fondo di solidarietà bilaterale e il fondo salute e sicurezza. Inoltre, l'intesa rafforza la clausola sociale a tutela dei lavoratori nei cambi di appalto, un aspetto questo accolto con grande soddisfazione anche nell'agro. Interessa, infatti, in maniera diretta anche il consorzio di Bacino Salerno 1. È un punto che tutela i lavoratori e ci rende soddisfatti, che ha sottolineato Marcello Torre della Will Trasporti. Il luogotenente Bruno Ronca e il nuovo comandante della stazione di Avellino prenderà il posto del parigrado Umberto Polizzi. Sentiamo. Da oggi la stazione di Avellino ha un nuovo comandante, il luogotenente Bruno Ronca, che subentra al parigrado Umberto Polizzi, attuale comandante della stazione Carabinieri di Cerveteri. Il luogotenente Ronca, 55 anni, di origini partenopee, sposato e padre di un figlio, ha intrapreso la carriera militare nel 1980, frequentando il corso presso la scuola sotto ufficiale di Velletri e Firenze. Laureato in Scienze delle Amministrazioni presso l'Università di Siena, inizia il suo percorso da sotto ufficiale nel 1982, quale capo equipaggio blindo presso il Terzo Battaglio in Lombardia, maturando successivamente vaste e significative esperienze di comando, tra le quali ricordiamo quella della squadra Assaltatori presso il X Battaglione Campania, nonché quella del nucleo comando della Compagnia Carabinieri di Castello di Cisterna. Approdato nel capologo Irpino ha già prestato servizio presso la locale stazione dal 1999 al 2001, quando fu trasferito al nucleo operativo della Compagnia Carabinieri di Avellino. Il capologo Irpino dunque è sicuramente il territorio che il luogotenente Ronca conosce meglio di ogni altro, un fattore che rappresenta una garanzia per la continuità dell'eccellente operato effettuato durante la sua permanenza in Irpinia, non solo per operazioni di sicurezza pubblica, controlli contro furti e rapine, lotta allo spaccio di stupefacenti, ma anche per operazioni delicate e complesse. La Campania sarà interessata da ondate di calore almeno fino alla giornata di venerdì e quanto fa sapere la protezione civile della regione, la quale già da oggi fa sapere si registreranno temperature massime che saranno superiori ai valori medi stagionali di 4-5 gradi. Intanto un report dell'ISPRA fa sapere per l'AFA il 2015 l'anno record. Sentiamo. Il 2015 è stato l'anno più caldo per l'Italia con un nuovo record della temperatura media registrata, segnando un più 1,58 gradi centigradi a livello annuale ed un'anomalia più marcata in estate. A dirlo, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale nel nuovo rapporto gli indicatori del clima in Italia. Questo conferma come l'andamento del riscaldamento del pianeta riguardi anche il nostro paese dove il nord si riscalda di più, segue il centro e il sud delle isole. Il mese campione del caldo è stato luglio, oltre i 4 gradi in più al nord e al centro e quasi 3 al sud. Dal report emerge poi che le notti italiane sono diventate sempre più tropicali. Sono state 26 in più rispetto alla norma. Mentre le ondate di calore hanno fatto registrare un aumento di 28 giorni. Ed anche le acque che bagnano l'Italia diventano più bollenti. Il 2015 è l'anno più caldo dell'ultimo mezzo secolo per il record della temperatura media annuale dei mari. Tutti i mesi del 2015 sono stati più caldi della norma ad eccezione di settembre al nord e febbraio al sud e sulle isole. Il mese meno caldo rispetto alla norma è stato settembre al nord, febbraio al sud e al centro ma anche sulle isole. Siamo alla pagina sportiva Serie A. Il Napoli giocherà due amichevoli al San Paolo e due all'estero. Questo è il programma delineato a margine della presentazione della campagna abbonamenti al dia da oggi. L'amichevole del primo agosto sarà celebrativa dei 90 anni dalla Fondazione del Napoli. Avrà quindi una serie di iniziative collaterali che sono in via di definizione mentre si sta stringendo per gli avversari che dovrebbero essere annunciati a breve. Tra le amichevoli internazionali sono state scartate le ipotesi di giocare in Turchia per ragioni di sicurezza dopo l'attentato di Istanbul. Serie B calcio mercato. L'Avelino mette a segno un altro colpo. Il suo dalizio di Piazza Libertà porta alla corte di Mimmo Toscano Bidaoui. Accordo biennale con opzione per il terzo anno. Il biennamento calcio comunica invece che ha perfezionato l'accordo con l'ACF Fiorentina per il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Lorenzo Venuti. Il difensore di Monte Varchi vestirà la maglia giallorossa nel prossimo campionato. Cadetto. Intanto non si ferma il benevento calcio dopo gli arrivi di Cragno, Peruchini, Venuti, Cevarolo, Camporese e Falco. La società giallorossa è in attesa di Puskas in pressing su caccia. E piace anche Maniero. Il neotecnico Marco Baroni potrebbe contare anche su Lorenzo Filippini. 21 anni esterno sinistro difensivo proveniente in prestito dalla Lazio. E tra questa l'ultima notizia vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo. Arrivederci al prossimo TG. Previsioni per martedì 12 luglio. Una forte linea temporalesca Flash Storm raggiunge il nord. L'anticiclone africano Nerone brucia il resto d'Italia. Ecco il dettaglio elaborato da IlMeteo.it. Al nord come detto in arrivo temporali violenti con grandine su tutto il settore alpino e prealpino e localmente anche sulle pianure adiacenti occasionali in pianura padana. Sole pieno e caldo con AFA altrove. Al centro sole totale su tutte le regioni caldo in aumento e anche affoso su gran parte delle nostre regioni. Raggiungiamo infine il territorio del sud. Sulle regioni meridionali bel tempo con cielo in prevalenza sereno, un poco nuvoloso e anche qui clima caldo e affoso. I venti saranno deboli e dai quadranti meridionali. Temperature previste. Minime in locale aumento con valori vicini ai 24-25 gradi su gran parte delle nostre regioni. Durante il giorno prevediamo tra 27 e 36 gradi al nord fino a 37 gradi al centro e tra 31-35 gradi al sud valori più alti nelle zone interne. Iniziamo a queste poste. An اورi'r